Come a Natale, l'associazione Gabriel Little Hero sostiene i progetti di speranza e in occasione della Pasqua ha organizzato una raccolta fondi attraverso la campagna Pasqua Insieme. Questa volta la raccolta fondi sarà integralmente dedicata alla realizzazione di due parchi inclusivi nelle province di Monza e Napoli, in cui i bambini potranno giocare insieme a prescindere dalle loro abilità motorie e cognitive. Nel comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, il parco avrà un'estensione di circa 1300 metri quadrati e sarà suddivisa in diverse zone. L'associazione sosterrà l'acquisto dei giochi per l'area musica. Nel comune di Seregno, in provincia di Monza e in Brianza, il parco si chiamerà i Giardini di Beslan, in onore delle piccole vittime della strage di Beslan del 2004. Anche qui l'associazione sosterrà l'acquisto di giostrine inclusive, altalena, scivolo e molle, a lanciare il messaggio ai cittadini di Agropoli e del Cilento, che a Natale hanno sostenuto con amore l'associazione, e il papà del piccolo Gabriele Cristiano Costanzo. Grazie anche al contributo di tutti voi ad Agropoli, a Natale siamo riusciti a fare una campagna straordinaria con la quale abbiamo finanziato un importantissimo progetto di ricerca che sarà fondamentale per i prossimi anni per quanto riguarda il trapianto di midollo osseo. Ma avere un bambino disabile non significa solo ospedali, ma significa anche soprattutto gioia, ed è per questo che questa volta vogliamo finanziare con la nostra nuova campagna Pasqua Insieme un progetto di gioia, un progetto di unione. Infatti Pasqua Insieme significa Pasqua da condividere, Pasqua da essere uniti e essere inclusi. E l'inclusione è il nostro messaggio. Infatti vogliamo realizzare con i proventi delle uova e delle colombe che stiamo offrendo, vogliamo realizzare due parchi inclusivi. Cos'è il parco inclusivo? Un parco dove ciascun bambino, indipendentemente dalle proprie capacità e abilità, sarà in grado di poter giocare e divertirsi insieme ai propri coetani. Partecipate anche voi, i progetti sono veramente interessanti e presto ci stiamo mettendo anche già d'accordo per ricambiare tutto il vostro contributo e tutta la vostra solidarietà anche lì ad Agropoli. Un abbraccio a tutti e grazie ancora. Per informazioni e per sostenere i progetti di speranza potete scrivere via WhatsApp al numero 391 41 28 986 oppure inviare una mail a infochiocciolo a gabrielittlehero.it contagiamoci di solidarietà che fa bene al cuore e all'animo.